La seconda vittoria sul campo contro il Palermo alla penultima giornata, ultimo atto all'Adriatico Cornacchia, non ha lenito il clima di tensione con la parte più calda della tifoseria. Nel corso del secondo tempo del match col Palermo, la tifoseria organizzata è tornata in curva, ha lanciato fumogeni e ha contestato di nuovo aspramente il presidente Daniele Sebastiani. E nel calderone stavolta c'è finito anche l'allenatore Zdenek Zeman, colpevole, si fa per dire, non tanto di non essere riuscito a raddrizzare una stagione già compromessa, quanto di essere un allenatore legato a Sebastiani perché fortemente voluto dal presidente del Delfino. Nel dopogara lo stesso Sebastiani ha annunciato ai nostri microfoni che vanno avanti le trattative per la cessione della società con imprenditori non abruzzesi. Dichiarazioni che sono una mossa strategica per lenire gli effetti della contestazione o concreti passi in avanti che porteranno alla cessione del pacchetto di maggioranza delle quote del Delfino. Quello che è certo è che Sebastiani nelle ultime settimane si è mostro tanto come colui che si vede ancora capo della società e in quanto tale cerca nuove opportunità per dare forza economica al suo dalizio. Lo dice la missione cinese post-Pasquale, l'incontro con il magnate Kazako Kasanov, lo dice anche il fatto di aver precorso i tempi mettendo sotto contratto a febbraio l'allenatore da cui ripartire nella prossima Serie B. Un cambio della proprietà dunque che non sembra imminente. Zeman dal canto suo ha incassato i cori lanciando una bordata alla fine. La squadra non l'ha fatta Sebastiani ha detto, scaricando la colpa su altre persone. Oddo, Leone? Il boemo ha glissato quando gli è stato chiesto di essere più esplicito. La fine del campionato e di conseguenza delle figuracce sul campo contribuirà forse a svelenire il clima. Con una curva contro, il resto della tifoseria è quantomeno spaccato su Sebastiani. La prossima stagione non sarà semplice, sarà fondamentale imbroccarla bene e ricreare un minimo di entusiasmo dopo le lacrime amare di questa stagione.